Benvenuti sulle frequenze digitali dello streaming di Sherwood.it. Questa sera approfondiamo il tema di estrema attualità legato alla sindemia, ovvero a come la situazione generata dal coronavirus ha influito e sta influendo sulle nostre vite, tanto da un punto di vista medico, ma anche dal punto di vista sociale, economico e relazionale. Oggi è una giornata molto particolare anche per il nostro festival. Prima di salutare e dare il benvenuto agli ospiti qui nello studio di Radio Sherwood in festa, ci tengo a sottolineare quanto la proprietà di linguaggio sia e si stia dimostrando un elemento estremamente problematico. Nei giornali locali di oggi, a Padova, il festival viene descritto come un focolaio, un cluster della variante delta del virus. Ebbene, leggendo poi il contenuto di questi scarni comunicati stampa della SL6 di Padova, riportati dagli organi di stampa, si capisce come semplicemente la presenza in città di dieci persone che hanno frequentato questo luogo e che purtroppo per loro hanno i sintomi e hanno la positività al virus, quindi queste due cose vengono accostate in modo arbitrario, semplicemente questo evento sia usato come incentivo a vaccinarsi da parte della direzione medica della SL di Padova. Ebbene, questo è un piccolo episodio che certamente non deve essere passato inosservato, che certamente abbiamo controbattuto con un comunicato stampa e vi invito a condividerlo dalle pagine social su Facebook e su Instagram del festival. Il festival ha dotato un suo protocollo di gestione sanitaria, facciamo i tamponi a tutte le persone, circa 150, che mandano avanti questa esperienza di cooperazione sociale, rileviamo la temperatura all'ingresso, abbiamo adottato tutte le misure di protezione per le persone che qui lavorano e che qui frequentano ogni sera questo spazio di aggregazione sociale e di approfondimento politico. Le mascherine sono a disposizione gratuitamente per tutte e per tutti, in tutte le casse, in tutti i banconi sono presenti barriere di plexiglass che ci impongono quel distanziamento che vorremmo tanto annullare, però sono quell'elemento di tutela e di garanzia che ci garantisce il fatto che questo festival si svolga nella migliore delle situazioni possibili. Ci sono molti accorgimenti tecnici che abbiamo dovuto assumere nell'impostazione e nella gestione di questa edizione di Sherwood Festival e ci sono modifiche, diciamo così, a una macchina molto rodata che sono anche stato il frutto di una serie di riflessioni fatte durante questi due anni in cui il festival non c'è stato. Una di queste certamente è stato il convegno sulla salute che il 28 marzo del 2021 informa online, l'unica materialmente possibile anche solo tre mesi fa, di fatto, poco più, abbiamo costruito e che è stato costruito da tre realtà. Tre realtà territorializzate nel nord-est, nella città di Vicenza, il caracololo Jackson, a Brescia, la realtà di non sta andando tutto bene, un percorso di critica a quella narrazione che durante la quarantena ci diceva con tanto di fiorellini e arcobaleni, sì dai che passerà, andrà tutto bene poi nel futuro, adesso il presente non è un problema. Invece no, il presente è sempre problematico e non sta andando tutto bene, nel nome ci riporta a questa necessità di critica materiale e di azione nel presente e nell'immediato. E l'Assemblea per la salute del territorio di Bologna, che ha approfondito e ha vinto una lotta, una vertenza contro la gestione della sanità nella città di Bologna, vedendo vittoriosa la battaglia su un ufficio di prenotazione di quartiere. Queste sono le tre realtà che si sono poste, un problema in comune, cioè il problema di dotarci di strumenti teorici, di lettura, di elaborazione, in modo da costruire un nuovo terreno di organizzazione anche, dentro ai conflitti sociali, dentro alle problematiche che il presente ci impone e che ci ha visto appunto il 28 marzo in una lunghissima, densissima e molto interessante giornata di discussione teorica, approfondire e sviscerare molti aspetti che sono oggi raccolti finalmente in questa forma di volumetto, di rivista che sarà disponibile in qualche copia qui a Sherwood Festival che certamente nelle prossime feste estive non mancherà di essere disponibile e che sarà ovviamente scaricabile online, già lo sono perché sono le trascrizioni di alcuni degli interventi di quella giornata che aveva tre temi. La prima sessione era alla ricerca di una nuova sanità, che cos'è il concetto di sanità e cos'è il concetto di salute non solamente dal punto di vista della funzionalità di un organismo atto a produrre, ma come questo tema era ed è strettamente connesso a un concetto sociale. Il nuovo concetto di salute, il tema della seconda sessione, ha appunto sviscerato anche quali sono state le origini, il salto di specie fatto dal virus, il cosiddetto spillover. Evidentemente a marzo guardavamo al vaccino come al momento liberatorio, come uno strumento in cui grazie all'immunizzazione di tutti gli individui, o quasi, si sarebbe superata questa fase appunto di isolamento sociale, di distanziamento sociale, contro la quale e dentro la quale comunque sono nate decine e decine di forme di autoorganizzazione e dentro la quale queste situazioni che già erano attive sui temi della salute a partire da problematiche territoriali pregresse alla pandemia hanno saputo intervenire e catalizzare in una giornata di convegno le problematiche già note e già affrontate nei territori. Ultima parola da spiegare perché sindemia, una parola che si sente molto poco, una parola che abbiamo imparato leggendo il Lancet, leggendo la rivista di riferimento per la scienza medica in tutto il mondo, una parola che mette in sé sia le conseguenze sociali e politiche quanto le origini sociali e politiche di uno stato di salute che viene meno a causa di un agente patogeno, nella fattispecie il coronavirus. Sindemia 0202 era il tentativo di rovesciare la narrazione, la prospettiva che la fase di sindemia appunto di pandemia arginata attraverso quarantene, attraverso l'isolamento sociale era la fase che abbiamo vissuto e che rendeva impensabili anche situazioni come queste appunto fino a un paio di mesi fa. Io credo che possiamo fare un giro spiegando e presentando queste tre situazioni a partire dalla situazione di Vicenza, dall'esperienza incredibile del caracololo Jackson che ha e sta sviluppando al suo interno anche un percorso medico, Teo Molinfop che ringraziamo per essere qui con noi, e poi ci spiegherà qual è l'origine di questa esperienza e quali sono le prospettive che stanno andando avanti. Ringraziamo per essere qui con noi sicuramente Lavinia Boggia e Luca Negronio dell'Assemblea per la salute del territorio di Bologna e Michele Borra, non sta andando tutto bene Brescia. Io inizierei da Teo per procedere poi con Michele e infine Lavinia o Luca sulla vostra esperienza molto particolare perché se il nord-est e il territorio bresciano-lombardo hanno un pregresso di devastazioni territoriali, di lotte radicate contro discariche inceneritore, autostrade e quant'altro, invece l'esperienza da cui nasce l'Assemblea per la salute per il territorio, come dicevo prima, guarda direttamente al modello di organizzazione del welfare sanitario in una città estremamente particolare e complessa come quella di Bologna. Quindi questi due filoni si sono uniti nell'alimentare, nel produrre questo convegno e a questo punto lascio la parola a Teo e procediamo con gli altri contributi. Ok, allora intanto ciao a tutti e a tutte, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere qui. Allora, prima di dire l'origine, cos'è il caracolo dello Jackson, io volevo partire da un altro punto di vista. Nel senso, volevo partire da un po' da un'opinione molto diffusa, da un luogo comune in cui praticamente si dice che la sanità in Veneto funziona e che è una delle, come dire, delle eccellenze del territorio nazionale e questa idea si è anche molto rafforzata dopo il primo lockdown per la gestione che è stata fatta in Veneto dell'inizio della pandemia. Allora, penso che un po' tutti sappiamo che in realtà non è così, è un po' più complessa la cosa, però per un momento facciamo finta che sia vero, che sia vero che la sanità in Veneto funziona. Ma il fatto che la sanità funziona in Veneto, e prendiamo per vera questa cosa anche se non è così, comporta il fatto che il territorio, la popolazione, le comunità siano in salute? Credo che la risposta sia no, ovviamente. E perché voglio partire così? Per dire che nell'immaginario e anche istintivamente noi colleghiamo il tema della salute con la sanità. e ci viene forse spontaneo fare questo collegamento. Mentre invece ragionare di costruire una salute, una nuova salute collettiva, è un ragionamento più ampio. Cioè penso che, e parlo solo della provincia da cui vengo, di Vicenza, che non si può parlare di salute, di una nuova salute collettiva, se non ci si pone il problema del fatto che, ad esempio, Vicenza è la quarta città in Europa più inquinata per quanto riguarda il PM2.5, insomma. E per il fatto che Vicenza è purtroppo al quarto posto in Europa come tasso di mortalità da PM2.5. Cioè, quindi, come si fa a non porci il problema dell'aria che respiriamo ogni giorno, da una parte, ad aggiungere le sfighe varie che abbiamo per non parlare dell'acqua contaminata dai FAS, della Miteni di Trissino, o comunque, per non parlare poi, e stamattina eravamo ad Arzignano a un'iniziativa organizzata dai comitati NOFAS del fatto che negli anni fa i torrenti della Val del Chiampo assumevano il colore in base agli scarichi delle concerie del luogo, insomma. Quindi, il primo punto, secondo me, se dobbiamo ragionare di salute, dobbiamo porci il problema di quali sono i determinanti sociali, economici e ambientali che intervengono in questo concetto. E da qui, come Caracol, a dir la verità, a essere sinceri, l'approccio che abbiamo avuto come Caracol al tema della salute è stato l'inizio del ragionamento sanitario in senso stretto. Cioè, leggiamo il fatto che in Veneto quasi 700.000 persone rinunciano a cure, a visite specialistiche per questioni economiche e quindi, come Caracol, quando abbiamo generato il progetto, abbiamo subito pensato, in modo diretto, dobbiamo fare l'ambulatorio. Perché se le persone rinunciano alle cure, il nostro modo di intervenire per garantire la salute maggiore alle persone è quello di costruire un ambulatorio popolare che garantisse cure gratuite per chi è in difficoltà economica. E questo l'abbiamo fatto. E questo è quello che, e dopo magari lo racconteremo più nel dettaglio, nel secondo giro di interventi, però, quello che abbiamo capito nel corso del tempo è che non era sufficiente costruire un ambulatorio popolare per allargare il diritto alla salute. E quindi, piano piano, ci siamo resi conto che è tutto il Caracol, con tutti i suoi progetti, che contribuisce a costruire salute nel quartiere e nella nostra città. costruisce salute la scuola popolare, lo costituisce la sede di ADL Cobas che costruisce vertenze sindacali e cerca di strappare reddito per chi non ce l'ha e lo costituisce anche l'emporio solidale che abbiamo al piano terra. Quindi è la complessità di questo progetto che contribuisce a costruire il termine di salute. Perché, alla fine, se ci pensiamo bene, io ho partecipato, per altri motivi, a molti convegni dei dipartimenti di prevenzione dell'Ulss, del Veneto, dove, da un punto di vista del discorso, tutti dicono che dobbiamo contrastare le disuguaglianze in salute agendo sui determinanti sociali e economici. Tantissimi seminari dove si pone il tema della rigenerazione urbana, della riqualificazione degli spazi abbandonati per produrre salute nel territorio. E devo dire anche che parlando di progetti super interessanti, anche molto innovativi. Peccato, però, che nessuno all'interno di questi convegni, quando parla di rigenerazione urbana, non dice due o tre cose semplici. Che rigenerazione urbana, prima di tutto, significa, per esempio, per Vicenza e provincia, bonificare la Miteni. Cioè, questo è rigenerare il territorio. Oppure, questa è una tendenza un po' diffusa in Veneto, la rigenerazione urbana, ad esempio, è smettere di costruire supermercati ovunque. Cioè, a Vicenza ne stanno costruendo uno ogni 100-200 metri. Quindi, c'è nessuno che tocca il tema che la rigenerazione urbana passa da mettere in discussione il sistema economico che stiamo vivendo. E questo un po' tocca a noi. Quindi, è questo il ruolo che abbiamo nella costruzione di una salute nuova e di comunità. Grazie, Teo. Michele, molte problematiche sono comuni e affrontate più o meno dello stesso punto di vista però in territori che apparentemente sembrano slegati. Il virus ci ha insegnato che c'è un territorio solo si chiama Pianeta Terra, ci viviamo tutti, dobbiamo prendercene cura. Allora, questo concetto di cura e di salute a Brescia è stato anche evidenziato da anche quelle mobilitazioni dei camici grigi che hanno direttamente attaccato la direzione sanitaria e il modo in cui la sanità viene gestita ed è stata gestita in maniera emergenziale. Cioè, aiuto, stanno tutti male per una disfunzione respiratoria, facciamo solamente un investimento sulla terapia intensiva per quest'urgenza che è vera, che ci manca, che non si cura la gente, però di fatto si è bloccata tutta una filiera di prevenzione. Teo, appena messo in evidenza come quella filiera di prevenzione in realtà abbia una barriera di reddito a monte e quindi questo è un altro elemento da non trascurare. Innanzitutto ringrazio per l'invito le compagnie e compagni di Sherwood Festival e anche l'Assemblea per la Salute del Territorio di Bologna e il caracol Orol Jackson per esserci qui per discutere insieme e ovviamente anche per il percorso che abbiamo iniziato alcuni mesi fa insieme che ovviamente cercheremo di proseguire. La rete non sta andando tutto bene è nata a Brescia dopo il lockdown diciamo il vero e proprio lockdown di marzo e aprile 2021 è un'esperienza che è nata non appena ci si è potuti rincontrare dopo l'esperienza appunto di isolamento sociale che è stato per tutte e per tutti i mesi di marzo e aprile dello scorso anno però è importante per affrontare i temi che affrontiamo stasera che io torni un attimo con la memoria a quelle giornate anche un po' per capire come si è venuto a creare questo gruppo che è un gruppo di sanitarie sanitarie ma è anche un gruppo di persone cittadine cittadini di sindacalisti sia dei sindacati confederali che dei sindacati di base una rete molto eterogenea di gruppi associazioni che hanno provato subito dopo il lockdown a aprire un confronto un dialogo tra di loro su tutto ciò che ognuno magari nelle proprie riunioni nelle proprie assemblee con la propria organizzazione il proprio gruppo anche individualmente aveva sviluppato durante un lungo lockdown che evidentemente aveva posto delle questioni a tutte le persone e che nella nostra provincia ha significato due mesi anche di più anche dopo il lockdown ha significato io vivo in città ma in città in particolare essendoci poi gli ospedalieri più grossi ma anche nella provincia ha significato due mesi di clausura ognuno nel proprio appartamento nella propria casa ma con il sottofondo costante delle ambulanze con i racconti di chi lavora negli ospedali di una situazione critica la consapevolezza che all'interno degli ospedali a un certo punto addirittura il personale sanitario è stato costretto a scegliere le persone che potevano nuovarsela o meno e quindi in una situazione di questo tipo che però era anche la situazione in quella che è probabilmente una delle o la provincia è stata anche l'unico in cui sono stati la prima degli sciocchi praticamente in generale a livello provinciale dei metalmeccanici che hanno incrociato le braccia in tutte le acciaierie e le principali fabbriche anche non solo le acciaierie anche nell'industria tessile e nella gomma plastica molto diffusa nella provincia hanno incrociato le braccia perché i padroni quando già era conclamata la situazione pandemica gli obbligavano ad andare a lavorare e per la prima volta probabilmente dal primo dopoguerra la decisione di incrociare le braccia dei metalmeccanici ha imposto la FIOM la FIOM CGL di indire degli scioperi continui fino a che non c'è stata la chiusura delle fabbriche tutto questo all'interno di una cornice che aveva reso evidente senza ombra di dubbio la gestione che si può definire criminale dell'emergenza sanitaria da parte della regione Lombardia guidata dalla Lega criminale non soltanto e qua i temi che si aprono chiaramente un po' anche in sindemia 0202 è stato anche il tentativo di cercare di tracciare una linea un fil rouge che lega tutto quello di cui proviamo a parlare brevemente anche stasera non soltanto per il prima della pandemia cioè che la pandemia ovviamente ha mostrato il nervo scoperto di una sanità di una sanità lombarda modello ma modello di privatizzazione modello di aziendalizzazione il più avanzato a livello nazionale ma il modello verso cui navigano anche tutte le altre organizzazioni sanitarie pubbliche delle altre regioni tante volte ci siamo confrontati con le compagnie e compagni del Veneto che ci hanno detto sì ma guardate che Zaia ha avuto tra virgolette anche la fortuna che in Veneto questo processo non grazie a loro che vogliono accelerarlo è rimasto indietro e quindi magari rimane della medicina territoriale in più e una migliore ospedalizzazione del concetto di salute e di medicina quindi da una parte la gestione criminale precedente cioè anni di smantellamento come adesso non mi sto a dilungare su questo lo sappiamo purtroppo tutti della sanità pubblica dei servizi accessibili dei servizi medici accessibili a tutte le persone e un'entrata nella gestione di ogni tipo di patologia del privato in maniera aggressiva in maniera pervasiva e potente all'interno della sanità regionale ma dall'altro canto sappiamo benissimo grazie anche all'inchiesta di Francesca Nava e di altre giornaliste giornalisti e di attivisti e attivisti sappiamo benissimo come con responsabilità ovviamente divisibili tra governo nazionale e governo regionale anche amministrazioni locali la mancata chiusura delle fabbriche la mancata chiusura delle aziende di tutti i luoghi di lavoro per lunghissimo tempo anche quando il lockdown stava praticamente iniziando il continuo appunto tentare inizialmente di negare la gravità della situazione e quindi ci ricordiamo tutti anche i vari sindaci pure di centro-sinistra delle città lombarde Sala Gori che appunto invitavano a non fermare le attività durante la pandemia dove chiaramente chi poi si trovava nella situazione di non vedere garantita la propria sicurezza la propria salute erano i lavoratrici e i lavoratori quindi in tutta questa situazione le persone che poi si sono trovate nella rete non sta andando tutto bene ognuna nel proprio ambito ha sviluppato dei ragionamenti e abbiamo provato a dar vita e poi ci siamo riusciti a questa esperienza che è stata la rete non sta andando tutto bene che ha prodotto non soltanto manifestazioni presidi assemblee pubbliche ma anche del materiale simile a quello che stiamo presentando questa sera però declinato sulla nostra realtà locale prendendo esattamente in questo modo gli interventi che c'erano stati durante una grande assemblea pubblica che a giugno del 2020 eravamo riusciti a organizzare in piazza a Brescia e provando a produrre un discorso che ribaltasse un po' la prospettiva di cui parliamo prima cioè che si chiedesse cosa serve giustamente prima si diceva viviamo un modo di intender la medicina emergenziale c'è il problema interveniamo ma le sanitari i sanitari i medici le mediche con cui abbiamo avuto a che fare quindi le persone più competenti da questo punto di vista nel gruppo non sta andando tutto bene fortunatamente hanno ci hanno fatto scoprire un altro modo di ragionare intorno alla sanità e alla salute ovvero quello che parte dal principio dal concetto di prevenzione di solidarietà e di cura collettiva e poi da lì ci sono tutti i discorsi che riguardano la medicina territoriale di prossimità la presenza sul territorio e aggiungo perché l'ha detto Marco io credo che sia fondamentale questo aspetto soprattutto una buona comunicazione informazione delle persone che è quello che dalla prima fase del contagio dell'esplosione della pandemia fino alla questione vaccini AstraZeneca e quant'altro è veramente uno degli aspetti io credo più criminali quindi una comunicazione che al posto di come dire convincere le persone su cosa è necessario fare per salvarci nessuno si salva da solo per salvarci tutti insieme cercando il click cercando di fare la notizia più grossa e con più visualizzazioni di quelle degli altri hanno creato una disinformazione e come dire anche una il panico e una paura e una diffidenza nei confronti della scienza da parte delle persone che ovviamente viene prodotta anche da questo da questo meccanismo siamo arrivati anche adesso cerco di finire di concludere siamo arrivati anche ad organizzare alcune come dire occasioni di pratica di questa medicina solidale di prossimità e territoriale con l'organizzazione seguendo un po' l'esempio che veniva anche da Milano dall'esperienza delle brigate sanitarie soccorso rosso da medicina solidale abbiamo cercato di produrre una giornata di tampone rapido gratuito per le persone in un quartiere popolare della nostra città e quindi è stata un'esperienza che è partita dalla critica dalla riflessione collettiva e è riuscita ad arrivare anche in qualche modo alla proposta di un concetto diverso di salute che parta appunto dalla solidarietà dalla prossimità e dal territorio per quanto riguarda Sindemia 0202 poi passo alla vigna o a Luca non so che interverrà la parola e questo è stato soprattutto io credo anche il risultato di un altro vulnus toccato da questa pandemia che in qualche modo ha preso diciamolo non in qualche modo ha preso in contropiede pure tutti e tutti noi che facciamo parte di collettivi movimenti sociali organizzazioni dal basso e noi effettivamente una cassetta degli attrezzi nostra un ragionamento organico sui temi della salute e della sanità non ce l'abbiamo non ce l'avevamo stiamo cercando di costruirlo adesso di fronte a questa situazione per tanti anni non è mai stato un tema nella nostra agenda politica quello della salute e della sanità questo virus questa pandemia ci ha dimostrato come proprio da quel tema si possono creare delle situazioni di criticità di problematica per le persone anche nella vita quotidiana su tutti gli altri aspetti della vita quindi ci ha mostrato come quella lente quella della salute intesa come prevenzione intesa come benessere e diritto a una vita degna una buona vita per tutte le persone è una lente in grado di andare a cogliere la complessità della nostra vita dentro dentro il mondo contemporaneo quindi la congiuntura della pandemia secondo me ci ha anche dimostrato come noi fossimo completamente disarmati di fronte a questo a questo scenario e da lì innanzitutto per me questo è il primo pregio di Sindemia 0202 la necessità di indagare insieme di interrogarci di ascoltare anche degli esperti delle esperte in maniera critica e di cercare di iniziare a costruire questo bagaglio collettivo per poi riuscire e lo faremo continueremo a costruire questa cosa nei mesi prossimi una nostra proposta un nostro contrattacco rispetto a questo grazie Michele la vigna l'assemblea per la salute del territorio come dicevamo nasce perché c'è una vertenza Bologna una città estremamente complessa una città che nell'immaginario è ancora rossa ha ancora dei dispositivi di welfare al suo interno e ci sono ci sono anche reali uno di questi viene spento un piccolo ufficio di quartiere a partire da questo si innesca una mobilitazione una mobilitazione immediatamente vittoriosa il pieno della capacità dei movimenti sociali di identificare i nodi nevralgici corrisponde a quel vuoto che le istituzioni stanno lasciando in un processo di dismissione di quello che è il sistema di welfare concepito negli anni 70-80 come risposta alle lotte di quel decennio furioso raccontaci questa esperienza e mettiamo in evidenza appunto come immediatamente sia stata al vostro punto di partenza la critica a una dismissione di sistema si la racconto anche perché magari può essere utile se magari succedesse anche in altri appunto territori in altri momenti in una giornata di luglio appunto del 2020 quindi durante la pandemia nel momento in cui c'erano le riaperture e insomma avevamo passato quello che si era visto essere un momento in cui la medicina di prossimità la possibilità anche di avere una vicinanza con la difficoltà che c'era nello spostamento nell'allontanarsi da casa eccetera fosse una cosa importante in una in un territorio di Bologna corticella che è una parte molto decentrata del quartiere Navile e molto quasi al confine proprio con la fine del comune di Bologna un centro unico di prenotazione un CUP che era appunto all'interno di un centro civico di corticella viene improvvisamente chiuso la cosa assurda oltre a quella appunto della chiusura di un servizio così importante che era un punto di riferimento centrale per la popolazione di questa zona viene chiuso con un cartello scritto a mano insomma addirittura oltre al danno alla beffa direi cioè nel senso proprio trattati come i cittadini come neanche data l'importanza di una comunicazione all'altezza con una serietà all'altezza di quello che ci si aspetterebbe da un'azienda sanitaria locale e immediatamente è nata una forte indignazione da parte appunto della popolazione di questa zona che ha spinto cittadini e cittadine a riunirsi in un'assemblea per confrontarsi su cosa si poteva fare si è deciso per un percorso sia di continuo confronto quindi è incominciata a nascere un'assemblea cadenziata in cui ci si ritrovava e si ricedeva appunto come cercare di risolvere questa situazione e abbiamo fatto una raccolta firme in cui abbiamo raccolto in pochi giorni una cosa come 800 firme con le quali abbiamo potuto avere una spinta sul quartiere e ottenuto un consiglio di quartiere aperto in cui ha potuto partecipare tutta la cittadinanza e a cui abbiamo portato alla presenza del presidente di quartiere dei dirigenti dell'asile locale una problematica appunto come quella di una chiusura di un servizio che era veramente un punto di riferimento per la popolazione di quella zona tra l'altro anche un altro dato importante è che in questa stessa popolazione è una popolazione soprattutto anziana quindi con difficoltà di spostamento che comunque impedivano il raggiungimento del cup che è stato aperto nella casa della salute di quartiere che era molto lontano e bisognava prendere addirittura due autobus oppure farsi accompagnare da parenti quindi una perdita anche nell'autonomia del singolo oppure pagare un taxi quindi un'incidenza su un reddito che pensionati non è che molto spesso vivono nel lusso e quindi anche questa era una situazione che toccava oltre alla problematica della salute anche tutta un'altra serie di problematiche di determinanti sociali come come dicevamo prima il reddito e anche molto semplicemente l'autonomia del del singolo tra l'altro in una storia comunque di questo centro civico in cui anni noi l'abbiamo ricostruita proprio in questa assemblea anni e anni prima era un poliambulatorio quello c'era l'oculista c'era la fisioterapia c'era il consultorio addirittura un punto prelievi un ambulatorio di medicazioni e un ambulatorio di iniezioni tutti questi pezzi sono stati uno a uno chiusi in vari anni e l'ultimo pezzettino è stata la chiusura appunto del centro di prenotazione e questa è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso insomma in una situazione in cui le persone si erano viste togliere mano a mano sempre più sempre più servizi la chiusura addirittura con un foglio di carta con scritto a mano della chiusura adatta da destinarsi quindi non si sapeva neanche se sarebbe stato aperto e ha spiazzato tutti e ha creato questa indignazione e a questo consiglio di quartiere siamo riusciti a imporre la problematica ed effettivamente come diceva Marco siamo riusciti a raggiungere una vittoria con la riapertura del del cup la riapertura degli ambulatori di medicazione e iniezioni e è anche adesso è stato riaperto un centro prelievi quindi diciamo che la lotta ha pagato durante questa assemblea che abbiamo avuto nel frattempo appunto mentre costruivamo questa lotta anche anche altre persone al di fuori del quartiere ci hanno raggiunto e ci hanno raccontato che la situazione comunque in tutta Bologna non era non era differente e quindi il ragionamento che abbiamo costruito era quello comunque di aprire l'assemblea a tutta la problematica della salute e della sanità di Bologna e quindi dopo questa vittoria abbiamo avuto altri momenti nella piazza principale la piazza maggiore a Bologna in cui con tutta una serie di altre realtà di altre di altri cittadini altre cittadine altri professioniste e professionisti sanitari abbiamo potuto confrontarci e creare nuovi appuntamenti di condivisione e da cui è nata l'idea di costruire una carta della salute di Bologna che è tuttora in costruzione e che abbiamo pensato essere un documento in cui un documento che rimane open source in continuo aggiornamento in cui raccogliamo un po' le riflessioni le problematiche che vediamo che le persone che partecipano all'assemblea riportano e su cui creiamo riflessione per poi anche cercare di costruire vertenze nel senso che ovviamente si analizza il problema e poi si cerca di individuare le controparti a cui portare il problema e fare pressione perché la situazione si risolva grazie la vigna io credo che siano emersi in questo giro due elementi che ritornano uno è questo elemento legato al reddito che da più punti è stato indicato e l'altro è quell'elemento di autonomia della persona tale per cui io posso anche avere tutte le risorse e materiali a disposizione ma se non ho nulla attorno a me sono comunque solo isolato per cui questo concetto di distanziamento sociale che ci è stato imposto dalla narrativa mainstream dai provvedimenti di legge di PCM che aspettavamo e che ancora stiamo guardando perché comunque viviamo dentro a uno stato d'emergenza che avrà termine tra pochi giorni ma che dichiara che come dire la vita ordinaria è sospesa in qualunque istante ci potrebbe accadere qualche cosa di eccezionale come è stata la notte di quell'otto marzo che mai più scorderemo questi due elementi ritornano in questi due elementi si sono sviluppate appunto quelle che sono state le risposte sociali alla situazione che si stava generando sono più risposte materiali il convegno ha approfondito e sviscerato gli elementi più teorici legati all'origine del virus al salto di specie alla storia stessa dei sistemi del sistema sanitario come dicevo prima il sistema sanitario nazionale in Italia viene definito all'inizio nel 1980 quindi siamo esattamente all'uscita da quel decennio di lotte straordinarie con un'intensità materiale e con un'intensità di rivendicazione un'altezza senza pari che difficilmente potremmo eguagliare sicuramente non nel breve termine purtroppo eppure l'urgenza di stabilire che esiste un'alternativa a quella società di atomi a quella società di corpi messi al lavoro di corpi unicamente produttivi questa è percepibile è palpabile ed è ciò che rende vive le nostre esperienze dall'altra parte il lavoro come diceva Michele sono stati proprio i luoghi di lavoro nel Bresciano nella Bergamasca essere i primi luoghi dove la gente ha detto ferma tutto così avanti non si va materializzando quella critica di sistema che poi nelle mobilitazioni che poi nelle vertenze politiche magari molto spesso viene collocata più come una visione generale come una visione globale come una tensione a cui guardare che non come un'attività materiale e concreta a mezzo di questo ci sta la fase che stiamo vivendo quella della vaccinazione di massa con un vaccino che certamente non è un bene comune che è protetto da copyright e che quindi nelle sue cinque varianti va ad alimentare in pieno quella catena di valorizzazione che è la stessa identica catena di valorizzazione che ha prodotto la situazione di malattia globale di tutto il pianeta e questa malattia globale non riguarda solamente gli esseri umani il virus si è determinato perché c'è stato un salto di specie le zoonosi degli agenti patogeni sono elementi studiati conosciuti in letteratura medica veterinaria e scientifica biologica in generale il fatto che una pandemia si potesse prima o dopo scatenare era atteso l'organizzazione mondiale della sanità ha lungamente avvertito e studiato in fase teorica questo problema evidentemente poi nessuno sa quale sia esattamente il luogo il virus e la specie da cui proviene l'agente patogeno che poi compie il salto all'essere umano però tutto questo ci richiama a quell'unico modello di produzione che ha schiavizzato l'intero pianeta l'intera sfera del vivente l'intera sfera delle risorse che si trovano nel sottosuolo e l'intera sfera del vivente inteso come risorsa esso stesso quel progetto di commodification generale che si sta compiendo avviato appunto all'inizio degli anni 80 quando la Thatcher diceva non c'è un'alternativa esiste solo il mercato tutto il resto è inutile tutto il resto non ha una 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 corrispondenza materiale reale esiste solo la logica del profitto nello schema del libero mercato evidentemente a questo ci stiamo ponendo con delle esperienze materiali allora io credo che sia giusto sottolineare come le esperienze di cui ci avete raccontato tutte quante siano portatrici di un elemento di solidarietà che si è dato e che si sta dando quell'elemento di solidarietà che vive nelle spese solidali durante la fase di isolamento in quarantena in tutte le città ci siamo organizzati per garantire il fatto che le persone anziane che non potevano uscire di casa o che non volevano farlo per paura o che avevano delle difficoltà motorie fossero provviste dei beni necessari per vivere e a partire da questo in alcune esperienze appunto poi si sono iper sviluppati alcuni rami di lavoro proprio sull'elemento più medico più legato a quel concetto di prevenzione che è stato spazzato via dalle misure emergenziali per cui tutta quanta la filiera dei grandi centri ospedalieri è stata riconvertita a terapie intensive o reparti di diligenza di isolamento per il virus quindi ci sono questi due elementi da un lato la solidarietà sociale che si esprime affrontando materialmente il tema del reddito dall'altro la necessità di avere dei poli diffusi di produzione di salute come diceva prima un ateo che non è semplicemente la salubrità e l'efficienza di un corpo che vive ma è un aggregato di molte pratiche ecco questi due elementi che cozzano contro da una parte il welfare dismesso tutto quanto cannibalizzato dalla sfera del mercato e dall'altro la concentrazione in megapoli di ospedali di eccellenza che poi magari pongono anche il problema del reddito ma intanto pongono il problema di essere poli isolati avulsi dal territorio i piccoli centri di cura vengono chiusi e questo modello di sanità diffusa cassato a fronte di una centralizzazione di luoghi dove semplicemente si rimette in sesto un organismo un corpo vivente atto a produrre e poi lo si rimanda nel territorio senza appunto curarsi di quello che può essere una relazione più continuativa e una relazione che non riguarda unicamente il far fronte a una situazione patogena momentanea di una persona questi sono due elementi che è bello approfondire e sono due elementi credo che ci possono portare a appunto identificare queste due visioni contrapposte tra la salute intesa come ciò di cui il sistema sanitario si deve unicamente occupare e quindi persone in grado di produrre di lavorare che stanno bene ma finalizzate alla riproduzione del valore di cui terzi godono e dall'altra parte il concetto di salute è legato alla cura alla cura sociale alla cura del territorio alla cura delle relazioni credo che questo sia un po' la lezione che abbiamo fino a qua portato a casa come diceva Michele prima abbiamo tanto bisogno di crearci nuovi attrezzi nella cassetta di decostruzione della realtà penso che questi due elementi possano essere utili e importanti da approfondire guarda io penso questo nel convegno durante il convegno è stato spiegato molto bene come alla fine degli anni 70 il servizio sanitario nazionale nasce sulla spinta di progetti movimenti iniziative dal basso e io voglio cioè io sono convinto che in certo senso tutta la questa produzione di mutualismo e di servizi nel di solidarietà nel territorio sanno un po' possono creare la stessa situazione che ha portato alla creazione del servizio sanitario nazionale cioè credo che questo sia il momento e l'occasione giusta per cambiare radicalmente una delle politiche in questo caso sanitarie basate appunto su privatizzazione e aziendalizzazione da una parte e da una visione ospedalocentrica come hai detto poco fa per diciamo costruire nei nostri quartieri nei paesi nelle città mettendo in relazione ancora maggiormente queste tutte le esperienze di mutualismo che a me piace definire ribelle cioè nel senso che si pongono il problema non solo di dare assistenza a dei bisogni primari che è fondamentale ma cercare anche quindi di come dire costruire poi alternativa e riconquistare insomma fette di di reddito e di città insomma come le le desideriamo e le vogliamo quindi credo che un po' tutte queste esperienze che sono nate all'interno della della sindemia possono avere la stessa funzione la stessa forza che c'è stata alla nascita del servizio sanitario nazionale per costruire un nuovo concetto di salute slegato da logiche di profitto business e che metta al centro appunto la cura collettiva individuale delle persone quindi cioè io penso insomma un po' che non voglio tanto farla lunga ma che appunto ci troviamo di fronte a questo e come dire la cosa che mi ha colpito molto a proposito del conflitto che dici tra queste spinte tra capitalismo e queste realtà invece che stanno costruendo scelte dal basso è che nel piano nazionale di resilienza non c'è niente niente neanche per gli ospedali neanche per gli ospedali per non parlare poi di rafforzare la medicina territoriale che è la lezione fondamentale che ci dà la sindemia quindi su questo credo che dobbiamo costruire battaglie e vertenze nel territorio perché affinché i miliardi insomma del PNR vadano invece destinate a ricostruire una sanità capillare nel territorio e chiudo con una visione che non è appunto solo sanitaria in senso stretto ma che coinvolga diverse competenze anime del cioè io mi immagino dei luoghi dove tu hai che produci salute mettendo insieme l'associazionismo sportivo di base quello culturale gli urbanisti e l'associazionismo insomma del territorio penso che sia questo un po' quello a cui noi dobbiamo alludere spingere e cercare di costruire quotidianamente perfetto grazie Teo Luca un commento e una sottolineatura su questi temi a partire appunto da una città complessa da una città dentro a cui appunto il sistema sanitario sta cedendo una città che però è nota in tutto il mondo anche come capoluogo della meccanica quindi il lavoro sempre centrale in queste in queste in questa narrazioni in queste vertenze Sì io ringrazio prima di tutto tutti i compagni e l'organizzazione per dare questo spazio di discussione e di riflessione allora le cose che sono state dette già sono un buon punto di partenza per aprire al fatto che noi pensiamo di realizzare un secondo momento di discussione il convegno sindemia 0202 è stato importantissimo perché tra i tanti momenti di webinar confronto che ci sono stati in quest'anno è stato forse quello che ha maggiormente ripreso le fila di vari discorsi perché giustamente c'è una tradizione che veniva dalle lotte degli anni 70 che hanno costruito l'idea di salute pubblica e che probabilmente sarà anche interrotta e che quindi oggi noi abbiamo il compito di ricostruire e nel convegno le varie realtà presenti hanno rappresentato i vari punti di questa storia i vari fili da riannodare da i vecchi compagni e compagni di medicina democratica che ricordano le lotte degli anni 70 e oggi sono impegnate su le questioni ambientali fino alle esperienze più innovative di mutualismo che tu hai citato correttamente quindi sicuramente oggi il nostro grande compito è quello di ricostruire questi aspetti un commento secondo me per cogliere tre punti Bologna città del welfare con una tradizione ma anche città della produttività come valore unico dei territori dell'urbanistica dell'organizzazione della vita e questo lo abbiamo visto anche nella gestione della pandemia perché la retorica e la rappresentazione per cui il lavoro doveva continuare nei magazzini nella logistica e invece bisognava appunto evitare bloccare tutte le manifestazioni di socialità della vita in comune è un grande mantra della retorica delle amministrazioni che in queste settimane ancora vediamo molto attiva con la chiusura degli spazi e il fatto che la gestione del covid ha fornito un'ulteriore occasione per le amministrazioni locali per modificare il volto delle città e quindi chiudere piazze limitare l'accesso a strade quindi anche senza una reale considerazione di un rischio diciamo per la salute ma perché è la grande occasione della difesa del decoro questa qui è stata interpretata anche così e al secondo posto la questione della governance sanitaria nel senso che le grandi esperienze di mutualismo noi abbiamo visto anche nell'esperienza dell'assemblea per la salute del territorio producono saperi che sono contro saperi quando a novembre noi ci incontravamo e dopo la prima vittoria ottenuta abbiamo cercato di metterci in relazione con altre realtà della città di Bologna la prima cosa che abbiamo pensato di fare è stata l'inchiesta autogestita sulla gestione del covid che per la diciamo per prima ha rivelato le carenze strutturali nella gestione della prevenzione della sanità territoriale in qualche modo anche costringendo la ASL a prendere posizione a spiegare perché cosa non stava funzionando e quindi il tracciamento la capacità di intervenire in maniera efficace e tempestiva da parte della ASL sulla prevenzione in qualche modo siamo riusciti a farla emergere perché le realtà che abbiamo messo insieme sono a contatto con le comunità e quindi potevano raccontare la gestione del covid oltre la narrazione del sta andando tutto bene limitiamo gli spazi di vita andate comunque tutti a lavorare che in fondo è quello che abbiamo vissuto nell'ultimo anno e mezzo e l'ultima questione è quei controsaperi sono saperi delle comunità che si aggregano che si aggregano sulle lotte ambientali sulle questioni che riguardano il mutualismo oggi si pone il tema di prendere quei controsaperi permettere loro di svilupparsi in una narrazione più organica perché i sistemi sanitari hanno mostrato di essere epistemologicamente inefficaci nel momento in cui io vedo appunto il corpo semplicemente organico che è il corpo della produzione o una totale cancellazione di quelli che sono i veri determinanti di salute sociali relazionali e politici mentre questo le comunità lo vivono e lo sanno e allora il tema è ricostruire un sapere che tenga conto di questo e portarlo anche a caduta nel momento della rivendicazione che possa diventare come lo stavate accennando più efficace e diretta possibile sui finanziamenti per la sanità territoriale contro l'ottica aziendalistica e prestazionale dei sistemi sanitari perché appunto noi vediamo la realtà che sono Lombardia Veneto ed Emilia Romagna che in mano ad un economista della Bocconi forse risulterebbero come i sistemi sanitari più efficaci ed efficienti e invece è proprio lì che noi andiamo a vedere come quella logica aziendale ha cascata prodotto un'epistemologia un modo di considerare la malattia i corpi nostri e le vite che è funzionale a quel tipo di politica e qui dobbiamo provare a rompere la questione Grazie Michele Luca poneva un passo in avanti un aggiornamento del nostro strumentario teorico e rifare il punto anche sul piano organizzativo con un nuovo convegno in autunno quali sono secondo te i nodi attorno a cui produrre questo avanzamento di discorso Io provo a concentrarmi un attimo a spendermi sul concetto della prevenzione che a me sta molto a cuore in tutti i ragionamenti che sono stati fatti fino a questo momento e lo trovo in qualche modo paradigmatico rispetto alla lettura che noi facciamo della pandemia però magari dirò qualcosa con cui molte persone non storceranno un po' il naso non saranno d'accordo però dal punto di vista sfortunatamente privilegiato che abbiamo avuto sulla pandemia da covid-19 io devo dire che bisogna stare attenti quando si parla poi della gestione emergenziale appunto quando la si mette a confronto con il tema della prevenzione è evidente che ormai quando la pandemia è esplosa cioè parlare di prevenzione a quel punto certo bisogna farlo però adesso io non vorrei dire la creazione di terapie intensive in più la chiusura di alcuni reparti di certe prestazioni sanitarie è un prodotto di quello che è mancato prima però non è io almeno parlo per Brescia non era un qualcosa di evitabile una volta esploso il problema una volta che ti sei trovato in mano il problema così come nessuno di noi parlo per Brescia nonostante siamo tutti persone nella retta non stanno tutto bene che fanno della critica all'esistente il sale della propria esistenza nessuno di noi si è sognato di mettere in discussione che a Brescia Bergamo in Lombardia in quel momento là la quarantena generalizzata fosse un qualcosa che si potesse mettere in discussione cioè io credo che dobbiamo anche appunto quando parliamo di aggiornare il nostro armamentare la nostra cassetta degli attrezzi dovremmo anche farla un po' finita anche con certe categorie di lettura anche politica come quella dello stato di emergenza e di queste cose qua che io credo non appartengano più alla realtà che in realtà abbiamo di fronte noi in realtà abbiamo di fronte il consolidamento negli ultimi decenni del neoliberismo come ultimo diciamo stadio del sistema di sviluppo capitalistico che ormai conosciamo molto bene ormai pervade le nostre vite le nostre esistenze è quello che il virus ci sta esattamente dicendo è che questo modello di sviluppo ci uccide non in senso astratto cioè ci uccide veramente e non i vecchi abbiamo tante persone a Brescia anche volontari e volontari della festeria dono d'urto compagni e compagni che conosciamo che hanno perso la vita a 60 anni 58 e quindi secondo me la cosa da sfruttare di più in termini politici di questa pandemia è che ci ha detto esattamente questa cosa qua uno degli interventi che abbiamo riportato nell'opuscolo che è disponibile anche questa sera ci sono qualcune copie è quello del professore Ernesto Burgio che al convegno ha detto per gli addetti ai lavori questa pandemia era annunciata da 20 anni dalla prima SARS perché chi studia epidemiologia ma con un taglio ecologico sa che ovviamente il rischio tra allevamenti intensivi i mercati degli animali selvatici sul sud-est asiatico la sovrappopolazione del pianeta l'estrattivismo del sistema capitalistico può comportare un rischio di questo tipo chiaramente invertire la rotta per così dire avrebbe voluto dire farla finita con questo modello di sviluppo che si può fare fare a che si può fare